Buongiorno, quest'oggi vediamo come pubblicare nel progetto gli slideshow e come poterli modificare. Entriamo nel gestionale, qui a sinistra abbiamo il menu completo, dobbiamo andare all'interno di slide e qua possiamo notare la gestione di tutti gli slide che sono presenti nel progetto. L'ordine vanno da quello che è stato pubblicato prima al più recente, lo si può visualizzare in questa sezione qua. Per la pubblicazione dobbiamo fare aggiungere uno nuovo slide, qua sopra dovremo mettere il titolo, successivamente andiamo a impostare l'immagine, la potremo scegliere dal locale e quindi il computer all'interno della vostra libreria oppure nel remoto. L'immagine dovrà avere una grandezza di 1400 pixel per 700. Successivamente si fa imposta immagine, l'immagine apparirà in questo box. Una volta che si è completata la compilazione dei campi, si può fare su pubblica e quindi poi sarà inserita all'interno degli slide.